Hello guys, Renan here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Hearthstone e andiamo subito a fare una rissa che però vi faccio già vedere, ho già fatto avevo registrato la prima partita di questa rissa in cui vincevo anche il pacchetto ma purtroppo i file sono rimasti tutti danneggiati perché Shadowplay è un bel programma no, a partire di scherzi, a volte può capitare appunto che ci siano dei bug e quindi niente, andiamo a fare questa rissa molto particolare in cui si giocano praticamente solo magie e portali del mage con tutte le classi ci sono dei mazzi già fatti, abbiamo scelto lo stregone e signori, secondo me è parecchio divertente ok, ok, siamo stregone contro druido, abbiamo, partiamo per secondi, molto bene e questo patto sacrificale, vi direi che quasi quasi ce lo teniamo ma non abbiamo demoni subito, quindi mettiamolo da parte e ci perdiamo un altro portale che è comodo perché? perché dobbiamo sculare e avere dei demoni dai portali e quindi signori, è un po' inutile, preferisco avere un portale molto bene, ok, monetina e ovviamente portalino giochiamo questo, che culo, via via, andiamo così dovete sapere che la prima partita mi è uscita da un portale trogzor signori, io, se avessi pubblicato quel video, probabilmente sarebbe stata la cosa più divertente del mondo dovrei avere uno screen che avevo fatto durante il video se ce l'ho ve lo metto da qualche parte per chi non sapesse cosa fa trogzor, è una leggendaria pesco una carta, un servitore... aspettate un secondo, uccidiamo questo tizio perché mi sta sulle bols vediamo cosa ci esce e... oh, lanciatore di coltelli, che culo ok, dicevo trogzor, per chi non lo sapesse, è un troll se non mi ricordo male, o comunque, insomma, è una leggendaria che ci permette di creare dei troll che si potenziano con le magie quando un nemico lancia magie in questa modalità si giocano solo magie quindi potete ben capire che, insomma, è comodo, no? eh sì, è decisamente comodo, quindi... oh, prendi lui bravissimo, no, 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 no tu uccidi lui, tu fai così, molto bene ce la prendiamo con calma, signori se sculiamo, si vince questa modalità è esattamente il testing del culo della gente perché se sculi, a posto se non sculi, lo prendi nel di dietro come se non ci fosse un domani quindi, eh, ok allora, io faccio tre danni ovviamente ci sono alcune magie, come avete visto, di classe però, ovviamente, si giocano solo portali quindi, insomma, è meh, è un po' meh allora, 25 a 30 il distacco non è poi così tanto io giocherei un portalino, giusto per cambiare vediamo cosa ci esce fornisce fuori del vento uuuuh, è però questo potremmo tenerlo ma no, dai, sì, sì, va bene così, va bene così giochiamocelo ok vai con furia del vento bieci oh, anche perché ha sette di vita quindi prima che lo butti giù mwaa, Malfurian ci vorrà tempo ha, ha, ha ok vediamo cosa gli esce, signori noi dobbiamo solamente incrociare tutte le dita del corpo anche le braccia tipo così, tipo granchio per sperare che non gli esca tanto, ho dato una botta al microfono sperate che non gli esca qualche leggendaria perché quando escono le leggendarie sorgono i problemi e non è bello non è bello infliggi 5 danni al servitore se un tuo demone più 5 più 5 allora io direi di fare così giusto perché siamo swagini perché siamo un po' swagini prima però peschiamo vediamo ok poi vediamo ah costa 2 purtroppo non possiamo va bene facciamo polizia io mantengo il contro del campo piano piano facciamo le nostre cosine un po' alla volta insomma è è intelligente come tattica è intelligente non male vediamo lui vediamo lui Malfurian amico mio per piacere davvero guarda guardami negli occhi io non voglio che tu peschi delle belle carte perché siamo amici cazzo signori questo ha pescato il mondo il prossimo turno ci fa un culo così ok fortunatamente non si giocano segreti mi sembra in questa modalità forse il paladino dei segreti non mi ricordo ah ok 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 allora io direi fermi allora signori possiamo fare così 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 giochiamo un portale uh eh però no no giochiamo un altro portale la giochiamo dopo quella uh questo è comodo questo ci viene molto comodo ma ma questo lo giochiamo dopo perché giochiamo prima questo qui gli facciamo due danni in faccia e bene così in maniera tale che si quello diventa 3 più 3 benissimo ma ci deve attaccare un tank ok che farà poi due danni tutti quanti ma tranquilli pazientate pazientate signori fidatevi del vostro rendi detto anche il rendi e vediamo cosa riusciamo a fare intanto questo gioca portali ma come se fosse l'official cosa eccolo e te pareva mannaggia a te porca puttana ok 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 5 danni all'amico fritz è stato bello arrivederci giochiamo il portale forse forse no non lo so se giochiamo il portale ma ok allora io farei un danno a lui con questo sacrifichiamo l'amico fritz molto bene 4 danni in faccia perchè prossimo turno ce lo deve attaccare se fa 2 danni a tutti è vero gli resta l'ombra che sarà un 4-2 a quel punto però almeno un altro muore quindi mitigiamo un po' the situation signori qua qua è tosta qua è davvero davvero tosta vi ricordo che abbiamo la gomba invocatore del vuoto più patto sacrificale che ci fa recuperare 5 di vita quindi è ancora buono ok 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 vai così signori che culo mamma mia questa è stata la sculata epica della giornata è decisamente bella giocata amico mio ok ok dobbiamo trovare una soluzione e la dobbiamo trovare subito allora vediamo vediamo qui tu tu molto bene molto be molto bene oh così si fa a posto scusate un attimo eh più 4 attacco fin tanto se l'avversario ha 6 o più carte in mano decisamente non ha 6 o più carte in mano facciamo così e ci giochiamo questi amici qua ma se giochiamo anche questo chi se ne frega e ci tiriamo il patto sacrificale sperando che non ci uccida il 3-4 in maniera tale che tanto per abbiamo 5 di vita in più che ci possiamo giocare se viene comodo tanto signore abbiamo cioè eh eh insomma avete visto che abbiamo vorrei dire meno che adesso non riesce che la so deathwing ma a rigore di logica ci dovrebbe uccidere il 7-6 che non può uccidere quindi il 5 ok adesso può ucciderlo ehm cosa farai? ah giusto che cambia cazzo e la nostra carta fa avere 50% di probabilità di sconfitta cioè di di cambio di di target molto 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 bene signori abbiamo vinto questo appunto era la rissa portali senza frontiere ci siamo divertiti un bel po' mi dispiace di non avere lo spacchettamento ma appunto ho spacchettato e il file è andato a morire perché perché shadow play ha deciso così shadow play io ti amo però sappilo non si fanno queste cose e quindi nulla signori noi ci vediamo al prossimo video enjoy e credere sia con voi lasciate tanti mi piace tanti bei commentini e bye bye